buongiorno benvenuti seconda giornata di lavori per le char director summit all'interno del business leader summit la settimana di incontri e confronti tra i manager di alcune delle più importanti aziende che operano sul territorio italiano e non solo per parlare del futuro del business in questo momento vogliamo cercare di capire come ai tempi della great resignation si stia modificando anche l'ambito della ricerca dei talenti che è un'operazione sempre estremamente complessa a maggior ragione in un mondo che in continua evoluzione per farlo siamo in compagnia di lara torres che service manager di reverse a cui diamo il benvenuto e grazie di essere con noi grazie grazie mille a voi per l'accoglienza dunque in questo momento delle grandi dimissioni le chiamano che in america ha coinvolto in un anno e mezzo oltre 48 milioni di persone e in italia siamo già quasi sulle due milioni di persone e sta cambiando completamente quindi l'assetto della fluidità del mercato del lavoro cosa significa questo per una società di ad hunting come la vostra e per la ricerca di talenti ad ampio spettro di sicuro oggi great resignation per voi per noi ma anche per il mercato significa un po rimescolare le carte del mercato stesso perché significa anche grandi assunzioni dove le aziende devono essere sicuramente proattive e reattive perché vuol dire che sul mercato sono presenti anche tantissimi talenti molto in in ricezione quindi da parte di un ed hunter questo viene accolto sicuramente con un bisogno di velocità che già prima sentivamo molto perché dall'ed hunter si va sempre con per ieri questo è un grande classico con l'urgenza però ecco il rischio della velocità è quella di una bassa qualità quindi una società di ad hunting oggi devi farsi trovare pronta essere super attiva nell'interpretare l'esigenza delle aziende e allo stesso tempo questo non deve inficiare la qualità quindi per esempio una società come reverse si pone quella di avere un focus molto alto sulla qualità promettendo anche una velocità importante perché quello che oggi le aziende si aspettano l'altro tema che su cui pone l'accento la great resignation è il dovere di riuscire a trattenere talenti quindi le aziende comunque oltre che fare ecco selezione del personale devono attrarre personale non solo quello esterno ancora da assumere ma anche quello interno quindi trattenerlo anche con dinamiche che poi possono essere anche insomma fare il paio con per esempio la comunicazione interna quindi è sempre un approccio più olistico che anche le aziende di ad hunting devono aiutare le aziende accogliere i clienti accogliere ecco in questo senso le dinamiche del mondo del lavoro internamente all'azienda ovviamente anche esternamente stanno cambiando abbiamo visto in questi due giorni di incontri e confronti che le aziende hanno da una parte una necessità e chiaramente i professionisti ne hanno un'altra questo cambio di relazione di interazione tra aziende e talenti come impatta poi concretamente sul lavoro day by day che voi svolgete e anche nella relazione con il mercato da parte di una realtà come la vostra che come dicevi tu cerca la qualità di sicuro dobbiamo essere sempre più in ascolto noi ed hunter aziende e candidati le aziende sono esigenti tanto quanto i candidati questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare e quindi un ed hunter che nel mezzo deve oggi mettere in contatto soprattutto quelli che sono i valori e la cultura ecco quello che io vi riporto come testimone ecco in prima linea e quello che oggi c'è un fortissimo accento sulla cultura aziendale i valori aziendali il purpose aziendale quando un ed hunter in grado di intercettare il purpose aziendale intercettare un purpose individuale presente nel candidato e metterlo in contatto lì c'è il matrimonio perfetto quindi ecco non ascoltare solamente aspetti di retribuzione che restano ovviamente importanti ma capire quali sono i valori quindi proprio l'approccio valoriale di un cliente la sua cultura e quando andiamo sul mercato a cercare i candidati porre anche l'accento su questo l'incrocio ecco di parte aziendale parte individuale può veramente garantire un rapporto di lunga durata fra il cliente e il candidato ecco in questo senso anche nella ricerca che abbiamo fatto come business international fiera milano insieme a indeed ha sottolineato questo aspetto non è più l'economia o tra virgolette i soldi banalmente a guidare il business ma sono i valori è la mission è il purpose come dicevi tu anche adesso e in questo senso chiaramente da una parte la tecnologia dall'altra l'analisi nella interpretazione degli scenari è fondamentale guardando al futuro quindi quali saranno i trend del mercato del lavoro e anche magari della vostra attività nella ricerca di qualità che impatteranno che guideranno insomma il futuro allora reverse si pone in effetti come un'azienda molto innovativa dove la parte di innovazione di tecnologia in realtà serve a portare in primo piano la parte umana noi diciamo essere digitali per essere ancora più umani quindi in un mondo molto dinamico dove la velocità assolutamente spesso guida le scelte per far sì che non offuschi la parte qualitativa quello che noi cerchiamo di fare è farci aiutare dalla tecnologia per velocizzare tutti quegli automatismi e lasciare però alle dante al recruiter la parte più umana più creativa più sensibile ed empatica perché oggi se parliamo di valori non possiamo mettere i valori ovviamente nelle mani di un algoritmo non può essere solo questo quantomeno quindi assolutamente il trend è quello dell'intelligenza artificiale tool strumenti che ci aiutano a rendere più veloci processi senza mai perdere di vista però la parte umana che insomma in quanto responsabili risorse umane in quanto appunto attori in questo mercato non dobbiamo mai perdere di vista le persone sempre al centro insomma assolutamente allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi e anche per gli spunti che ci hai dato grazie mille a voi alla prossima